Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Servo Diligente. Spero che dopo la condivideremo sui vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Servo Diligente perché il servizio è prestarsi al padrone con dedizione, per farsi apprezzare e guadagnarsi lo spirito di comprensione. Un Servo Diligente è fedele, ascolta il proprio padrone e presta attenzione alla sua vita che è reciproca, cioè deve donare la propria fatica al lavoratore e il lavoratore deve prestare attenzione alle sue cose. Il Servo Diligente osserva le giuste regole per stare in pace con se stesso e con il lavoratore. Ecco, conserva il ricordo di ogni gesto lavorativo nel contesto in cui egli lo esplica. Ecco, vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Servo Diligente. Il servizio è prostrarsi al padrone con dedizione, per farsi apprezzare e guadagnarsi lo spirito di comprensione. Il Servo Diligente è fedele al suo caro padrone e dona la sua vita umilmente compiendo opere di bene. Il Servo Diligente osserva le giuste regole e conserva i ricordi di ogni gesto unito al suo contesto. Siamo servi del Signore, è Lui il vero padrone. E solo se ci sapremo prostrare a Lui, sapremo essere unica gioia vitale. Grazie, spero la condividerete su tutti i vostri contatti Whatsapp e farete iscrivere tutti i vostri amici al canale Youtube Savinot S. Grazie